Oggi vi mostro un triset per i tricipiti. È un circuito ad alta intensità, si basa su metodo 30-20-10. Abbiamo praticamente, sono tre giri in totali. Primo esercizio, 30 secondi, estensioni tricipiti su parallelo. Secondo esercizio, 20 secondi, diamond push-up. Terzo esercizio, 10 secondi, estensioni, braccia a terra, AX. Ora ve li mostriamo con Ale. Avete praticamente due minuti di recupero tra una serie e l'altra per un totale di tre giri. È un ottimo lavoro per lavorare a livello ipertrofico, molto molto buono per chi cerca dei lavori anche più verso l'endurance. Vediamo il circuito. Vai! Qui 30 secondi di tempo per lavorare sul massimo numero di ripetizioni possibili. Potete recuperare quando volete. Vai, ancora 5 secondi, Ale. E stop. Ok. Adesso passiamo subito al secondo esercizio. Diamond push-up. Vai! 20 secondi. Diamond push-up. Presa a diamante. Le mani sono unite. Esercizio di spinta che mette focus, oltre che su petto e spalle, anche sul tricipite. Vai Ale. 5, 4, 3. Vai, resisti. Stop. Adesso, terzo esercizio. Abbiamo un lavoro AX. Solo 10 secondi, eh. Vai, estensione AX. Ok. Ancora 2 secondi. Dai. Dai, vai, vai. E stop. Ok. Com'è? Tosta. 3 giri totali. Esercizio. 30 secondi. Intensità bassa. Quindi scegliete una variante di esercizio per i tricipiti con un'intensità per voi bassa. 20 secondi, quindi i secondi diminuiscono, ma l'intensità dell'esercizio deve aumentare. Così anche nella terza fase. Solo 10 secondi, quindi il numero di secondaggio diminuisce, ma l'intensità dell'esercizio deve aumentare. Quindi sarà un circuito a intensità crescente. Diminuisce il secondaggio, diminuisce il tempo di esecuzione, ma aumenta l'intensità. Tra un esercizio e l'altro fate passare non più di 10 secondi. Ok? Quindi primo esercizio facile, secondo intermedio, il terzo difficile. Recupero due minuti e faccio così tre serie. Allora, provate questo circuito ad alta intensità. È un triset, come avete visto, 30-20-10. Se non vi è chiaro qualcosa, lasciatemi un commento qui sotto che sarà mia premura rispondervi al più presto. Buon allenamento! Grazie a tutti!